Detriti, rifiuti abbandonati e plastiche in mare. Una mattinata di lavoro per i volontari delle associazioni Il Gabbiano e Spezia Sub che hanno ripulito la spiaggia della caletta di Lerici e il fondale marino circostante. L'associazione sportiva dilettantistica di Lerici Il Gabbiano propone ogni anno un calendario ricco di eventi e attività culturali sul territorio e per il territorio. Gare di pesca al Bolentino, nuoto a Sirena, conferenze sull'astronomia navale e molto altro. In questo sabato di maggio l'iniziativa ha invece puntato direttamente al cuore prendendosi cura di una delle baie più affascinanti della Liguria. Un'insenatura di sabie e ciottoli immersa nel verde mediterraneo e protetta da faraglioni. C'è sempre una luce particolare che si riflette sulle sue acque e limpide. Un piccolo angolo di paradiso prezioso e delicato non semplice da raggiungere. Spesso le mareggiate invernali riversano nella stretta insenatura della caletta detriti difficili da rimuovere ma anche plastiche e rifiuti abbandonati da avventori poco attenti e sensibili. Il consiglio di amministrazione del Gabbiano ha quindi promosso una giornata per la pulizia di questo spazio così caro ai Lericini e non solo. La pulizia della spiaggia del fondale è stata possibile grazie al lavoro dei membri dell'associazione sportiva Lericina ma il successo dell'evento è stato garantito dal lavoro di squadra con un'altra realtà importante del territorio lo spezia sub con il patrocinio del comune di Lerici e il contributo di Iren Acam Ambiente. Hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa anche la pubblica assistenza di Lerici e il comando locale marittimo nella persona del luogotenente Moscato che ha fornito supporto. L'iniziativa dimostra l'attenzione delle realtà locali per l'ambiente e sarà di ispirazione per i cittadini a prendersi sempre più cura delle perle del nostro litorale.